I due Alessio, corteggiatori supereroi di Lavinia. E' una ragazza complicata Lavinia. Lei ha cercato un uomo paziente e tenace e l'ha trovato in Alessio il biondo perché ha superato prove e peripezie per lei, la bella Marchesa. La redazione ha regalato ai due supereroi un massaggio rilassante per la pazienza. Federico e Carola erano ospiti in studio per la scelta di Lavinia e le hanno portato dei fiori in dono e tanti abbracci e baci, tutti commossi. E' lei, Lavinia, bellissima in un vestito rosso come l'amore e la passione. Quando ti ho visto arrivare, bella così come sei. E' la canzone di Gino Paoli, scelta da Alessio il biondo per Lavinia, dedicata a lei. In una bellissima esterna alla reggia di Caserta. Un amore pieno di passione, duraturo per tutta la vita. E' la canzone di Gino Paoli, scelta da Alessio il biondo per l'amore. In un amore pieno di pietra di Cigli Porto.